Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui proprio alla Mezzia, nella sede di Potere al Popolo, in compagnia di Rosario Piccioni, che è la Mezzia Insieme. Chiediamo proprio a Rosario l'importanza di essere qui oggi in una manifestazione che lo vede protagonista a tutto tondo e che si svolge anche in concomitanza dell'inaugurazione della sede di Arcichè e la Mezzia, proprio qui all'interno dei locali di Potere al Popolo. Penso che oggi sia una giornata molto significativa e importante per la Mezzia, perché era ora che ci fosse anche qui una sede locale di Arcichè e soprattutto che nascesse un circolo che portasse avanti quelle che sono le istanze di persone che, bene sottolinearlo, sono assolutamente normali, persone con cui condividiamo ogni giorno la nostra vita, che purtroppo sono vittime però a livello generale di una serie di discriminazioni assolutamente inaccettabili e intollerabili, soprattutto quando siamo nel 2018. Quindi ben venga questa iniziativa, io ho accolto subito l'invito che mi è stato rivolto di essere presente, penso che tutti quanti, sia la politica che la società civile, dobbiamo fare la nostra parte e incoraggiare questa iniziativa. Certo, è preoccupante il fatto che in una regione come la Calabria queste realtà stentino a crescere e ad affermarsi. Purtroppo la Calabria, lo sappiamo, è un po' indietro rispetto ad altre regioni, però proprio per questo esce fuori una giornata ancora più importante e più significativa, proprio perché la Mezzia dà un messaggio importante nell'affermazione dei diritti civili ed è un messaggio che rivolge chiaramente a tutta la regione ma anche a tutto il meridione. Un'altra domanda, la Mezzia, almeno per quanto riguarda l'esperienza politica e associativa, in quanto si è visto anche nelle altre manifestazioni alle quali hai partecipato, penso anche a quella dell'inclusività delle persone disabili fatta da pochissimo, quanto è accogliente sia per le persone disabili, ma pensiamo semplicemente a una persona che ha un orientamento sessuale diverso e che comunque non vuole essere discriminato, quindi parliamo anche di omofobia. Ma è inutile nasconderlo, la realtà non è semplice, però per fortuna, come dicevo prima, qualcosa si muove, c'è un fermento culturale, soprattutto tra i giovani, questo tra le nuove generazioni fa assolutamente ben sperare per il futuro, quindi io sono decisamente ottimista perché la Mezzia alla fine è in Calabria, la Calabria è in Italia, quindi riflette un po' quello che è il clima nazionale, ci sono messaggi di intolleranza e di ostracismo nei confronti delle comunità gay, transgender, lesbo, eccetera, però d'altro canto c'è una cresciuta sensibilità che noi dobbiamo incoraggiare, ecco, le persone per bene di questa terra e soprattutto le persone che tengono l'affermazione dei diritti civili, come dicevo prima, dobbiamo batterci tutti insieme per far crescere sempre più questi spazi di civiltà e di democrazia e lo dobbiamo fare innanzitutto per noi stessi, ma soprattutto anche per dare un messaggio ai nostri figli, alle nuove generazioni, perché alla fine siamo tutti uomini, nel senso lato chiaramente di genere del termine, non ci sono distinzioni a prescindere appunto dagli orientamenti sessuali ed è il messaggio più importante che deve passare, è una battaglia non semplice, come sappiamo ci sono forze politiche ma anche sociali che tendono ad ostacolare questi percorsi, però come tutti i percorsi accidentati appunto per questo ci sarà ancora più soddisfazione nell'ottenere dei risultati, quindi grande merito ai giovani di La Mezza che hanno voluto portare avanti questo progetto e per questo dicevo che oggi è una giornata, se vogliamo, anche storica per la nostra città. Grazie a tutti.